Dall'artigianalità Umbra nasce un prodotto unico e originale, caratterizzato dall'alta qualità di filati nobili e pregiati, grazie all'accurata selezione delle migliori materie prime. Un prodotto realizzato con cura sin dalla fase di disegno e progettazione, con tecnologie moderne supportate da professionisti che elaborano i disegni trasformandoli in capi per interpretare in ogni stagione le tendenze del momento in modo unico e creativo. La costante attività di ricerca e innovazione dell'ufficio stile interno assicurano un controllo qualità capillare che rappresenta un valore fondamentale per l'azienda e una garanzia di alto pregio del prodotto. Dall'attività di cucitura di ogni singolo capo fino al lavaggio che esalta la bellezza e il lusso delle materie prime, dalla stiratura all'etichettatura fino alla spedizione. Ogni fase di lavoro avviene all'interno dell'azienda per far sì che la miglior tradizione della maglieria Umbra incontri ogni volta l'innovazione e la contemporaneità in un prodotto di alto livello. L'esperienza del Made in Italy per un prodotto curato nei minimi dettagli. Con amore. Per te. A presto. A presto. Grazie.